Trova una posizione comoda adesso, inizia a respirare profondamente, lentamente, e man a mano che respiri, permetti ai tuoi occhi di rilassarsi fino a chiudersi, e con questi occhi chiusi, e mentre continui a respirare, immagina che sopra la tua testa si materializzi una piccola sfera di color oro, un oro brillante, quasi una piccola stella, e noti che questa stella luminosa dorata è lì, ferma sopra la tua testa, e mentre continui a respirare, a ritmo sempre più lento e profondo della tua respirazione, noti che questa sfera inizia leggermente ad oscillare, come se fosse un piccolo pendolo, a destra e sinistra, a movimenti molto piccoli, della larghezza quasi della tua testa, e a mano a mano che respiri sempre più profondamente, e ti permetti di rilassare il tuo corpo sempre di più, noti che questa sfera, che pendola lentamente, a destra e sinistra, inizia a scendere, scende, fino a toccare la tua testa, e noti che questa sfera è talmente tanto luminosa e piena di energia, che riesci a entrare dentro di te, e pendolando a destra e sinistra, illumina la tua testa completamente, e riesci a percepire come questa energia dorata, permette a tutta la tua testa, ai tuoi muscoli, di rilassarsi sempre di più, e noti come a mano a mano che la sfera oscilla a destra e sinistra nella tua testa, andando lentamente sempre più giù, riesci a illuminare qualunque cellula della tua testa, e noti come i muscoli si rilassano a mano a mano che vengono illuminati, le tensioni del volto scompaiono, la mascella si rilassa, l'intera pelle esterna, il naso, le orecchie, gli occhi, vengono completamente illuminati e riempiti da questa energia di pace, di serenità, di tranquillità, e la sfera continua a scendere, e illumina e rilassa il tuo collo, oscillando sempre di più a destra e sinistra, scende, e illumina e rilassa la cervicale, le spalle, e scende giù, adesso l'oscillazione aumenta di larghezza, perché la sfera illumina le tue intere spalle, e scende giù per il busto e per le braccia, e noti come a mano a mano che scende giù lentamente, oscillando, il tuo corpo diventa completamente pieno di energia, un'energia che lascia andare tutte le tensioni, lascia andare le negatività, lascia andare lo stress, e fa entrare dentro di te un'enorme pace e serenità, e a mano a mano che oscilla, la sfera illumina e rilassa i tuoi organi interni, e noti come i polmoni sono completamente illuminati, rilassati e pieni di pace, tanto che il tuo respiro diventa sempre più calmo e regolare, calmo e regolare, calmo e regolare, calmo e regolare, e così il cuore si illumina, si rilassa, e fa entrare dentro di sé la pace, puoi sentire il suo battito, tranquillo e regolare, tranquillo e regolare, e la sfera continua a oscillare, illumina e rilassa tutti gli organi interni, lo stomaco, i reni, il fegato, l'intestino, nonché tutte le parti esterne, la pelle, i muscoli, i tendini, le ossa, ogni singola cellula di queste parti viene illuminata, liberata da tutto ciò che la stressa, dalle negatività, dalle tensioni, e rienergizzata da pace, serenità e benessere, e noti come anche le tue braccia sono rilassate, pesanti, serene, e oscillando sempre di più la sfera arriva al bacino, che rilassa, illumina e riempie di pace, e scende giù verso gli organi genitali, e giù verso le gambe, e oscillando, illumina, rilassa, lascia andare le tensioni, e riempie di pace, serenità e benessere, e va giù verso le ginocchia, e ancora più giù verso i polpacci, e ancora più giù fino ai piedi, e noti come ogni singola parte del tuo corpo è completamente piena di questa energia dorata di pace, serenità e benessere, ti rendi conto come tutte le tensioni sono andate via, non c'è una singola parte del tuo corpo che non sia totalmente rilassata e tranquilla, e la sfera ormai arrivata ai tuoi piedi esce dal tuo corpo, e va di fronte a te, noti come si posiziona poco sopra la tua testa, a circa 2-3 metri di distanza, noti come questa piccola sfera diventa più grande, più grande, più grande, quasi come un grande sole, vedi l'energia dorata che si muove, che illumina, che vive, e che dà vita a questa sfera, la osservi intensamente, e ti godi questa energia, mentre il tuo respiro continua a rilassare il tuo corpo, e mentre sei focalizzato su questa sfera, noti come il suo colore diventa lentamente rosso, un rosso brillante, un rosso lucente, e mentre la sfera diventa rossa, ti rendi conto che tutto il tuo corpo diventa dello stesso colore, perché è pieno della sua energia, il tuo corpo è completamente rosso, totalmente rosso, esattamente come quella sfera di fronte a te, e lentamente, il rosso si trasforma in arancione, un arancione piacevole, un arancione gioioso, la sfera diventa arancione, e l'intero tuo corpo la segue totalmente arancione, e lentamente si trasforma in giallo, e l'intero tuo corpo diventa giallo, un giallo potente, un giallo intenso, tutto risuona del colore giallo, tutto è illuminato del colore giallo, e dal giallo lentamente si trasforma in verde, un verde smeraldo, un verde brillante, un verde d'amore, e l'intero tuo corpo diventa verde, come la sfera, che fa entrare dentro di sé, questa energia amorevole, permettendo, al tuo corpo di, rilasciare ogni eventuale, tossina residua, e il verde, si trasforma in blu, e il tuo corpo diventa completamente blu, un blu intenso, un blu elettrico, e dal blu, si trasforma in violetto, e l'intero tuo corpo diventa violetto, il violetto è il colore dell'intuizione, e a mano a mano che il tuo corpo brilla di questa luce violetta, ti rendi conto che la tua mente si apre, e lascia entrare la capacità, di apprendere più velocemente, di osservare i dettagli, di trovarne le lezioni, di avere la massima focalizzazione, su ciò che sta facendo, il colore viola ti apre a questo, al non usare soltanto i due occhi, che normalmente usi, ma aprire anche il terzo occhio, come se, un occhio brillante di colore violetto, possa aiutarti a vedere quello che gli occhi non vedono, a percepire quello che gli occhi non percepiscono, ad avere una visione d'insieme, comprendere subito il concetto che ti serve, a notare immediatamente le parole chiave, gli argomenti chiave, i dettagli chiave, che tu stia studiando, leggendo un libro, guardando dei video, osservando una scena, o seguendo una lezione, il colore violetto del tuo terzo occhio, ti aiuterà a focalizzarti, e a sottolineare, in maniera mentale, e chiara, ciò che è importante che tu comprenda, ciò che è importante che tu apprenda, ciò che è importante che tu ricordi, ciò che è importante, per te, e ogni volta, che chiuderai gli occhi, immaginerai di trovarti di fronte a questa sfera che cambia colore, tutta questa capacità ritornerà dentro di te all'istante, e ogni volta, che chiuderai gli occhi, immaginerai questa sfera di fronte a te che cambia colore, il tuo terzo occhio si aprirà, la tua attenzione sarà molto più focalizzata su ciò che devi apprendere, e ogni volta che la rivedrai, questo processo diventerà sempre più veloce, e sempre più intenso, ogni volta che sentirai questa registrazione, diventerà tutto più veloce, sarai sempre più attento, il tuo focus sarà sempre più intenso, la tua capacità di apprendere sarà sempre maggiore, la tua capacità di lettura sarà sempre più veloce, la tua capacità di comprensione, crescerà sempre di più, ogni qual volta ascolterai questa registrazione, o immaginerai questa sfera di fronte a te, questo processo continuerà in maniera automatica, aumentando sempre di più, e facendoti diventare una persona sempre più capace ad apprendere, nuove conoscenze, ottenere nuove abilità, leggere più velocemente, osservare più acutamente, acquisire i dettagli, comprenderne i messaggi, e questa sfera adesso, può finalmente diventare bianca, un bianco puro, un bianco luminoso, un bianco splendente, e l'intero tuo corpo diventa bianco, totalmente luminoso, come se diventassi un vero e proprio essere di luce, un essere dalla conoscenza eterea, dalla conoscenza infinita, un essere che può, grazie alla sua luce splendente, accedere a quelle conoscenze nascoste, accedere più velocemente, a tutto ciò che è necessario comprendere, capire, apprendere, un essere capace di andare oltre, le normali abilità umane, di andare oltre i normali limiti umani, perché tu adesso, sei un essere che ha uno strumento in più, hai la tua stella personale, hai la tua stella che ti rilassa, ti dà pace, ti rienergizza, ti ricarica, e ti apre a quelle nuove capacità, conoscenze e abilità, a cui tu adesso hai accesso, goditi questa sensazione, e noti com'è, il tuo corpo è totalmente rilassato, e pronto, a poter focalizzarsi, su ciò che dovrai fare, sapendo con certezza, che ogni qual volta, ti fermerai un attimo, a rievocare, la tua stella personale, avrai accesso, ogni volta, a delle capacità, sempre più grandi, sempre più potenti, sarai capace di leggere, sempre più velocemente, di apprendere, sempre di più, di comprendere, più velocemente i messaggi, di cogliere, più acutamente i dettagli, ed ora che, tutto questo, è stato installato, al cento per cento, in ogni singola cellula, del tuo corpo, noti come, la luce, comincia ad abbassarsi, la sfera, ritorna piccina, ridiventa dorata, e torna sopra la tua testa, e a mano a mano, che torna sopra la tua testa, noti come le tue sembianze, ritornano normali, puoi osservare le tue mani, puoi, cominciare a scioglierle, puoi far riaffluire il sangue, e la sfera, inizia ad allontanarsi, ad andare in alto, e tu, cominci a tornare, nel tuo corpo, nella tua realtà, puoi sciogliere, i muscoli delle caviglie, e fare un bel respiro profondo, sapendo dentro di te sempre di più, che ora, è il momento migliore, per poter studiare, apprendere, comprendere, carpire i messaggi, o fare delle scelte, adesso, grazie, alla tua stella personale, a tutto ciò che ti ha trasferito, e alla preparazione, che ti ha dato, sei nel momento migliore, per poter, prendere delle decisioni, o parlare con te stesso, ottenere delle risposte, o comprendere dei messaggi, o semplicemente, leggere un libro, o studiare una lezione, o seguire un corso, o qualunque altra cosa ti serva, per poter evolvere, nella tua vita, per poter migliorare, accrescere le tue abilità, aumentare le tue comprensioni, diventare una persona migliore, è arrivato il momento, del risvegno, e lentamente, con i tuoi tempi, comincia a far riaffluire, il sangue in tutti i muscoli, sciogliendoli, sempre di più, fai dei respiri profondi, riossigena, tutte le parti del tuo corpo, e senza fretta, e con i tuoi tempi, riapri gli occhi, e fa, ciò che devi fare, e fa, ciò che ora, tu sei pronto, e preparato, a fare al meglio, di cui, chiunni, è una storia di un fogo, di cui, e la maggior parte, chiunni, è una storia di un fogo, King, è una storia di un fogo, Grazie a tutti. 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 a tutti.